Anch'io sostengo l'iniziativa del Cinema Carini, mi raccomando, uniti, si fa la forza! Sono Andrea Lachiluchetta, anch'io sostengo il Cinema Carini, salviamo il Cinema Carini! Un saluto a tutti, io sostengo il Cinema Carini! Sono Enrico Nadai e anch'io sostengo il Cinema Carini! Tutti noi del basket siamo per il Cinema Carini! Siamo Manuel Dell'Arti, Alessandro Troncò e Mauro Berriavallo! Aiutate i ragazzi del Cinema Carini! Non riesco a sentire che una sala storica debba chiudere, io spero, con il suo cuore, che questa sala possa, come dire, continuare il suo percorso di emozioni per chi va a vedere i film sul grande schermo. Il Cinema è un valore per tutti, per i ragazzi, per la gente più adulta, per gli anziani, quindi il Cinema Carini non deve assolutamente chiudere. Il sindaco di Pieve di Soligo e tutta l'amministrazione comunale sostengono il Cinema Carini! Anche noi della Valle in Piave sosteniamo il Cinema Carini! We love Carini! Sostenete l'Associazione del Cinema Carini! Venite al Cinema, venite qui e fate come io lo sostengo! Sono Giacomo Pensa e sostengo il Cinema Carini! Sono Max Cazze? Eh, sono... Sostengo anch'io il Cinema Carini! Io sostengo il Cinema Carini! E guai a chi lo distrugge! Ciao, sono Riccardo Pippis, ex giocatore della Benetton. Volevo invitare tutti a fare una donazione per i ragazzi del Cine Teatro Carini di Pieve di Soligo. I'm free to be whatever I... Whatever I choose and I'll sing the blues if I want... I'm free to be whatever I choose and I'll sing the blues if I want to 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 sing the blues if I want to